Vi ho fatto una sorpresa speciale in Metal Gear Solid 4, se questo video vi piace iscrivetevi subito nel mio canale, Gabriosta ve lo consiglia. Ma torniamo a noi. In questo quinto e ultimo atto stiamo vedendo Meryl che è da sola ad affrontare le Prime Mantis, quelle donne malvagie che sono soldatesche. Meryl non può proteggere nessuno, sono infinite però, non si fermano finché non la uccideranno, però Meryl deve stare concentrata e deve farle fuori tutte. No, chi è che le uccide e che le fa fuori tutte? Ah, grazie al cielo è arrivato Johnny. Bravo Johnny, sei arrivato, ma tu sei sempre Akiba, il tuo nome in codice. Stai bene Johnny? Vai Johnny, dai un po' di munizioni a Meryl. Sono contento che siete ritornati. E poi ricordatevi che il controllo mentale su Meryl è svanito di nuovo. Forza, sparate tutte e due. Attenta Meryl. Anche tu Johnny, fate una alla volta. Però mettetevi in salvo da quelle Prime Mantis. A voi non ci servono le nanomacchine. Non vi servono le nanomacchine, anche a noi non ci servono. Gabriosta non ne ha bisogno. E neanche Meryl e Johnny. Voi non ce l'avete e nemmeno io non ce l'ho. Facevi di tutto per aggiornare i dati, Johnny. Non hai riportato conseguenze in Europa. Meryl è accorto. Meno male che Johnny ha questa arma di drabbing che gli aveva dato. Meryl non lo sapeva. Gli ha detto un sacco di cose orribili. Quanto parlano, ma fanno un litigio anche quando combattono. Johnny ha sempre amato Meryl da quando l'ha vista per la prima volta a Shadow of Moses. Meryl preferisce rimanere single. Ma Johnny e Meryl devono sposarsi. Perché non si sposano? Per diventare marito e moglie. Bravi, cambiateli sempre i caricatori. Ma sono infinite ste trying mantis. Non finiscono più. Vogliono sposarsi. Vogliono sposarsi. Allora avevo ragione, ragazzi. Devono sposarsi. Ma chi è che tira una granata stordente? Sono sempre loro. Sono loro che tirano le granate stordenti. Ma questo video è anche dura. Oh no. Mi hanno sparato le gambe. Ora non riescono a muoversi Meryl e Johnny, perché le Prying Mantis gli hanno sparato alle gambe. Stanno ancora pensando al matrimonio con tanto di fiori e torta? Se lo sogna da quando era una ragazzina. Se lo sogna da quando era una ragazzina. Perché stanno pensando al matrimonio? Devono pensare a finire questa missione. Dopo questa missione si sposeranno. vuole essere una sposa. Si danno un bacio in bocca. Si baciano. Ok, arrivederci. Iscrivetevi nel mio canale. Ma ricordatevi di proseguire per tutto il Metal Gear Solid 4 e per tutta l'Auter Heaven, visto che siete all'hangar dei missili. Arrivederci a tutti.